Grazie a tutti Allora, oggi niente spesa, niente, un po' di pane Grati, un sacchetto per voi Eccoli, eh Un altro pane, un altro pane E' la pasta Noi distribuiamo il pane, il latte e la pasta per lo sciopero della spesa Se vi avvicinate vi diamo un bel sacchetto Grazie a tutti E' sempre a disposizione Le porte sono sempre aperte Regolazione Facciamo prima una foto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti